Ricordate le consultazioni tra Renzi e Beppe Grillo quando il sindaco di Firenze ha subito provato a parlare del decreto di abolizione delle province, il cosiddetto decreto del Rio? Ebbene, c'è chi fa gli slogan e chi invece fa i fatti. Noi del Movimento 5 Stelle proponiamo gli stessi argomenti in tutta Italia ed oggi siamo qui a comunicarvi una vittoria speciale fatta da un gruppo speciale, il Movimento 5 Stelle in regione Sicilia. In Sicilia grazie alla determinazione del Movimento 5 Stelle siamo riusciti ad ottenere una vittoria storica, abbiamo trasformato le province in liberi consorsi comuni e abbiamo licenziato la casta politica provinciale, da oggi in Sicilia potete dirlo a tutti i vostri amici, parlatene al bar, al lavoro, parlatene in giro con la gente, abbiamo finalmente scritto la parola fine alle elezioni provinciali, da oggi in Sicilia per le province non si vota più. Noi del Movimento 5 Stelle.